In Puglia solo il 3,6% dei cittadini consuma 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, maglia nera in Italia, mentre il 52,9% ne consuma quotidianamente almeno 3 porzioni, migliore del dato nazionale. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia sulla base dei dati di sorveglianza passi dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione della giornata mondiale della salute. Quasi due pugliesi su tre sono in sovrappeso, il 9,8% è obeso, ma c'è anche il 29,7% che risulta in eccesso ponderale, un fattore di rischio che favorisce molte malattie come problemi cardiocircolatori, diabete, ipertensione, infarto e certi tipi di cancro, aggiunge Coldiretti, che sottolinea come il 10,3% dei minori è obeso con rischi gravi per la salute. Per aiutare tutto il sistema scolastico e le famiglie ad alimentare al meglio le giovani generazioni e l'intero nucleo familiare, da anni il progetto di educazione alla campagna amica agevola l'incontro tra i bambini e i prodotti agricoli fatti dagli agricoltori. In Puglia negli ultimi dieci anni, riferisce Coldiretti, sono stati coinvolti nel progetto delle masserie didattiche 200.000 bambini e 480 scuole, di cui il 70% nella fascia l'età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Per educare le nuove generazioni al consumo consapevole, la Coldiretti sollecita a privilegiare negli appalti delle menze scolastiche i cibi locali e a chilometro zero, che valorizzino le realtà produttive locali e riducano i troppi passaggi intermedi, dietro i quali più elevato è il rischio di frodi e sofisticazioni.